Angeli, la loro presenza nella nostra vita. Vi presento un importante seminario per comprendere una realtà semi-sconosciuta, ma enormemente importante per la nostra vita quotidiana. La realtà degli angeli, o comunque li vogliamo chiamare, quel mondo spirituale che ci circonda e del quale troppo spesso non ci accorgiamo. Nella società materialista nella quale viviamo si parla troppo poco o per niente di angeli. Perché? Perché si ritiene che un mondo spirituale non esista, che tutto avvenga per caso, che tutto sia privo di origine, ma soprattutto privo di senso. Oppure di angeli se ne comincia a parlare e a scrivere, ma spesso a sproposito, senza sapere bene di che cosa si sta parlando scrivendo. Le religioni organizzate ce ne hanno sempre parlato poco e male e sempre di meno, per vari motivi, compresi come vedremo motivi di potere. Ma comunque nessuno, quasi nessuno sa bene questi angeli chi sono, se esistono, a che cosa servono, che cosa fanno. Quando invece il mondo spirituale intorno a noi e dentro di noi è una realtà ben presente, pulsante, evolutiva, in dialogo costante con noi. Mentre noi, mentre noi, ciechi e sordi, proprio non lo sappiamo, proprio, non ce ne accorgiamo. In questo seminario faremo insieme un viaggio per renderci conto della presenza reale intorno a noi di tantissimi esseri spirituali, intorno a noi e dentro di noi, per imparare a riconoscerli col pensiero e a sentirli col cuore, dalle più alte coscienze angeliche fino al nostro angelo personale, alla nostra guida personale. Faremo un percorso ben diverso dalle solite classificazioni esoteriste oppure dalle nuove modeste classificazioni New Age, classificazioni che di per sé, proprio in quanto classificazioni, non ci dicono nulla della realtà vera di questi esseri e di che cosa fanno e quindi non hanno molto senso. Noi cercheremo di entrare in profondità per capire a cosa serve la presenza degli angeli, cosa fa in noi, che cosa produce e noi che cosa possiamo fare insieme agli angeli. E quindi invece di partire dai nomi, serafini, cherubini, troni, potestà, dominazioni, arcangeli, giù, giù, fino ai nostri angeli custodi. Non partiremo dai nomi, ma partiremo da quelle presenze spirituali che veramente ci circondano e che ci passano dentro e come riuscire a individuarle, a notarle nella nostra vita quotidiana. Cioè vedremo le realtà dei nostri pensieri, le realtà del flusso della vita, le realtà della natura, le realtà degli incontri degli altri, le realtà del cosmo che ci circonda e da lì estrarremo la presenza vera degli esseri spirituali. Qualche cosa che noi possiamo notare tutti i giorni, con la quale possiamo interagire tutti i giorni e che ci può indicare anche la strada giusta per le nostre azioni. Scopriremo insieme cosa fanno e perché lo fanno in tutti gli ambiti della nostra vita, interiori ed esteriori. E poi soprattutto ci soffermeremo su come noi possiamo entrare in un dialogo consapevole, cosciente con loro e utile per la nostra vita. Con gli angeli fino ad ora c'è stato un dialogo unidirezionale da loro verso di noi in tutta la storia e vedremo anche nella storia come sono stati gli angeli, qual è stato il loro dialogo con noi. Ma vedremo anche che nella nostra epoca, l'epoca della crescita della coscienza, questo dialogo ha cambiato. Gli angeli ci parlano in un modo diverso, dobbiamo capire come, perché ci parlano in un modo diverso e cercare di entrare in dialogo. Gli angeli non si aspettano più da noi di stare passivi a ricevere le loro intuizioni, ispirazioni, i loro ordini, diremmo, la loro guida. Gli angeli si aspettano che noi con le nostre forze di coscienza entriamo direttamente in contatto con loro e collaboriamo con loro a rendere l'umanità e la terra qualcosa di veramente migliore. Vedremo finalmente come uscire da questa dolorosa illusione di essere sempre soli, di non avere qualcuno che ci guida, di non avere qualcuno che è con noi tutti i giorni e tutti i momenti. Impareremo ad usare questa vicinanza amorevole, materna degli angeli per essere più certi di fare il bene, di fare la cosa giusta nelle difficili scelte della nostra vita. Faremo un bel viaggio insieme, capaci di indicarci direzioni nuove, buone, utili per la vita nostra e delle persone che ci circondano. Vi aspetto.